Ecco qualcuno fischia e invece non c'è stato niente E poi avete capito, bello mamma mia, un attaccatore, non le pende uno ma lui è capissima 65 anni, carose, ammoccavo, gli stanno trasformando un braccio E la festa lady? Signora, tutto bene, lei è il sindaco, quindi signora Signora, finché il signor Giardina, sindaco di Palomino Sono qua, può capitare? Sono qua, mi consiglio? E ovviamente signor Giardina come si chiamerà? Mazza no? Come si chiamerà? Lodo, vabbè lodo che è la cosa logica Mamma, non è mamma, mamma, mamma Mamma, 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 mamma Ciao mamma, 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 mamma Non mi dirai matulazzo, non mi dirai matulazzo Non mi dirai matulazzo, non mi dirai matulazzo Non mi dirai matulazzo, io ho fatto 20 minuti di sticcio Vieni, vieni, vieni Però ho detto alla ragusana Non sembra neanche una parolaccia, vero? Vero signorina? Se potete più tranquillamente Sticcio, ninja, sticcio Certo, vabbè, oh Sono passati 8 anni, eh 8 anni, l'ultima volta C'eravate 8 anni fa? Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Grazie a tutti.